E' il football club, quindi lei praticamente finisce il campionato di quanti... Noi facciamo tutte le categorie... ...negli per questo Stantanielo, la bellezza è di 17 squadre, ci puoi spiegare più nel dettaglio come si organizza il lavoro di questo Stantanielo Club? Partiamo dai piccolini che sono dall'età del 2010 al campionato di eccellenza. Ogni campionato ha varie fasce di età, che sono due anni per ogni età, facciamo tutti i campionati, dalla Juniores ai piccoli amici, che variano ogni campionato di questi, sono di 6-3 età. Ok, quanti persone sono coinvolte in due? Sono 490 iscritti, ho capito, è interessante. Partecipiamo a un campionato di eccellenza, che è il massimo campionato regionale. Come stanno andando le squadre? Abbastanza bene, tutte con ottimi risultati, è uno dei panti maggiori è quelli che sono tutti i ragazzi da l'esercito, non prendiamo nessun ragazzo da fuori, anche nella nostra prima squadra. Su 22 elementi, 17 sono scolati. Quindi se ne chiedono di poter giocare a calcio e fare scolto, c'è una prima squadra? No, in prima squadra possiamo pure mettere conto che non sia scolacalcio. Immagini, ma non sono detto di quest'album delle figurine dei calciatori. Abbiamo fatto questo pure da figurine che però comprende pure altre squadre della penisola. Sarà proprio un tipo Panini con le varie squadre da Vico a Massa. E ci sarà anche posita una news a Pumoro questa cosa. Lo metteremo. Lo metteremo. Va benissimo. Va bene. Va bene Presidente, allora ringraziamo questa breve intervista. Vi richiamo tutto il meglio per i tuoi 17 campioni. Grazie. Grazie.